Ora che l'investimento responsabile sta diventando almeno a livello di analisi degli investimenti una pratica comune, gli investitori più evoluti e complessi sono sempre più spesso alla ricerca di strategie che vanno oltre i tradizionali principi ambientali, sociali e di governance per produrre benefici misurabili per le persone e per il pianeta. Per tale ragione alcuni approcci di investimento responsabili si stanno espandendo per abbracciare le cosiddette strategie ad investimento ad impatto. Mentre le tradizionali strategie responsabili hanno come obiettivo quello di integrare una serie di fattori ESG per mitigare il rischio e migliorare la performance, l'impact investing insegue in maniera consapevole specifici effetti ambientali e sociali positivi, oltre che al rendimento di mercato. Questo approccio è stato utilizzato principalmente per gli investimenti specifici in passato, ovvero un progetto singolo ideato e sviluppato con precisi obiettivi e orizzonti temporali. La sfida di NuVind è stata quella di integrare l'impatto nel proprio portafoglio complesso di investimenti di private market e di private equity, ovvero per seguire un impatto sociale e ambientale in grado di poter essere misurato, oltre che a dare un rendimento positivo. Partendo dalla gestione del General Account DTA, ovvero del Fondo di Teachers americano, unico azionista di NuVind, ci siamo concentrati su tre ambiti verticali di impatto, la crescita inclusiva, l'efficienza delle risorse e le abitazioni accessibili, ovvero affordable housing. Al centro della nostra tesi di investimento ad impatto c'è il consumatore a basso reddito e la convinzione che sia poco osservito in termini di accesso a prodotti e servizi di base, quale ad esempio l'assistenza sanitaria, l'istruzione e gli alloggi. Riteniamo che questa tipologia di consumatori sia anche quella più vulnerabile all'intensificarsi degli effetti del cambiamento climatico. Per questo finanziamo aziende che aiutano a ridurre il divario tra domanda e offerta di questi beni e servizi essenziali, sfruttando la tecnologia per migliorare l'accessibilità, la convenienza e l'adattabilità ai cambiamenti climatici. Nei mercati privati il divario tra domanda e offerta è sempre più evidente non solo nel mondo delle infrastrutture clean energy, ma soprattutto nel segmento delle risorse naturali, quale farmland e timberland. Farmland vuol dire investire in aziende agricole, culture e produzione, ma anche in tecnologie e risorse naturali, quale ad esempio la gestione dell'irrigazione e della raccorta. Farmland è un asset class in grado di produrre valore in un contesto di volatilità e di inflazione e ciò che ha tratto la nostra attenzione molti anni fa è stata la correlazione con le altre asset class, dove sia la domanda che l'offerta risultano essere inelastiche. La prima la domanda in termini di persone da sfammare, la seconda l'offerta in termini di terreni da coltivare, peraltro questi oggetto di riduzione a seguito della crisi ambientale. L'approccio delle nuove generazioni agli investimenti in risorse naturali sarà determinante. Le risorse naturali rappresentano una nuova frontiera all'interno dei mercati privati, una frontiera in grado di portare valore aggiunto all'interno di portafogli complessi degli investitori, sia istituzionali che privati.